In Liguria gli affitti brevi producono un volume di affari di 500 milioni di euro, una tendenza che interessa anche il Tiguglio. A Sestri Levante, in media su 10 appartamenti, 8 sono per locazioni brevi e 2 per affitti annuali. 9 arresti per usure scommesse illecite a Genova. Secondo l'accusa, un gruppo gestiva prestiti con tassi fino al 53% e raccoglieva scommesse con soldi a debito. Una petizione per avere maggiore trasparenza sugli interventi alla Galleria Madonna della Guardia è quanto chiedono alcuni abitanti della Valdivara alle prese con i disagi legati alla chiusura del tunnel. Preparare azioni legali e invocano ulteriori modifica il progetto i comitati contrari alla realizzazione del tunnel fra Rapallo e la Val Fontana Buona, attesa la via nazionale per ricorrere al Tav. La superbia avvelena il sentimento di fraternità. Il Papa, nella catechesi dell'udienza generale, mette in guardia contro uno dei vizi che definisce più pericolosi. Al termine, l'appello per la pace in Ucraina e Terra Santa. A Hortas, le sue regionelline proseguono la loro missione al servizio della popolazione locale. Un piccolo germoglio di speranza per la Terra Santa, segnata dalla guerra, l'approfondimento nella rubrica Missione Mondo. 25 giornalisti della Liguria sono a Malaga per 12 giorni di formazione sull'intelligenza artificiale applicata al settore dell'informazione. Presenti anche due colleghi di Telepace, un'occasione di aggiornamento professionale e condivisione. Rosaria Costa porterà la sua testimonianza a Sestri Levante. La vedova di Vito Schifani, agente ucciso a Capaci insieme a Giordice Falcone, parlerà di infiltrazioni mafiose, di fede, del coraggio e di speranza. Al comunale di Chiavari, la serata dell'orgoglio bianco celeste. La Virtusentella torna la vittoria col Perugia, con 5 reti a 0. Tripleta di Corbari, Peterman e Montevago, i goleador della serata. Oggi in campo il Sestri Levante. Buonasera, bentrovati e bentrovate al Tg Telepace. A Sestri Levante aumenta sempre di più il numero di appartamenti dedicati agli affitti brevi. Trovare quindi una sistemazione di tipo annuale diventa estremamente difficoltoso, soprattutto a causa dei guadagni molto importanti che il locatore percepisce durante la stagione estiva. Il punto nel servizio. Stop alle locazioni annuali a Sestri Levante risulta infatti sempre più difficile, soprattutto per coppie giovani che vorrebbero trasferirsi in città, trovare un appartamento da affittare tutto l'anno. Questa inversione di tendenza rispetto al passato è dovuta alla sempre maggiore offerta di alloggi ad uso turistico disponibile esclusivamente nel periodo estivo. Il giro d'affari in Liguria degli affitti brevi corrisponde a 500 milioni di euro che sono veramente una cifra impressionante per un totale di 100.000 posti letto contro i 150.000 delle strutture alberghiere. E su Sestri Levante parliamo circa di 400 appartamenti in affitto solo su Airbnb, poi ci sono tutti i portali, poi ci sono le agenzie immobiliari. I proprietari degli immobili di Sestri Levante sembrerebbero preferire affittare la propria casa solo nei mesi estivi poiché la rendita risulterebbe maggiore rispetto alla locazione annuale. Affittare appartamenti settimanalmente tra giugno e settembre soddisferebbe quindi a tal punto il locatore da non sentire la necessità di avere inquilini anche in inverno. Purtroppo, come sappiamo, la legislazione attuale non aiuta il proprietario ad essere tranquillo rispetto a un'eventuale problematica che possa insorgere con gli inquilini. Sorge quindi anche un problema di sfiducia nel lasciare la propria casa per molto tempo a persone strane. Per questo motivo il proprietario si sente maggiormente tutelato a puntare sul breve periodo. Statisticamente diciamo su dieci appartamenti otto sono destinati ad affitto turistico mensile o breve o brevissimo e due all'affitto annuale. Un problema sempre più all'ordine del giorno che andrebbe forse ridimensionato non solo per lasciare spazio a chi si trasferisce da un'altra regione ma anche ai cittadini locali che vivono per scelta in affitto e vogliono cambiare abitazione senza necessariamente pensare all'acquisto. Il sistema sanitario regionale della Liguria finanzierà con 7,4 milioni di euro l'acquisto di oltre 120 mila prestazioni di diagnostica per immagini da studi privati che saranno poi erogati ai cittadini per diminuire le liste di attesa di chi prenota questo tipo di visite attraverso la sanità pubblica. La delibera è stata approvata oggi da Lise e si inserisce in un più ampio pacchetto di finanziamenti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa. Il presidente della Liguria Giovanni Totti spiega che entro la metà del mese le singole aziende sanitarie potranno firmare i contratti. La cronaca adesso. La Polizia Genova ha arrestato 9 persone per usura e scommesse illecite. Secondo la ricostruzione della Procura avevano articolato un sistema di prestiti con tassi fino al 53% e diversi gruppi WhatsApp per scommesse con capitali a debito. Vediamo. 9 arresti per usura e scommesse in associazione. Gli agenti della squadra mobile del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Genova questa mattina hanno eseguito le misure cautelari disposte dal GIP su richiesta della Direzione Antimafia della Procura per usura aggravata, esercizio abusivo di scommesse anche in associazione e autoriciclaggio. I reati contestati sono stati commessi fra il 2019 e il 2022. 9 persone che vivono a Genova e ad Alessandria sono state arrestate, ristrette ai domiciliari o colpite da obbligo di dimora. Uno degli arrestati era già stato condannato nel 2006 con sentenza definitiva per mafia. Un altro era destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo per 700 mila euro conseguiti in maniera illecita. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero le persone indagate approfittavano della momentanea difficoltà economica delle loro vittime. Una di queste era affetta da ludopatia. A due componenti di una famiglia titolare di vari ristoranti a Genova sono stati applicati i tassi di interesse del 53% per un prestito di 10 mila euro e del 10% poi ridotto per un prestito da 15 mila. Ad un uomo che aveva bisogno di liquidità a fronte di un prestito da 10 mila euro veniva applicato un tasso superiore all'8% mentre ad un venditore ambulante di frutta veniva chiesto il 10% per un prestito da 12 mila. Alcuni degli indagati sono accusati di aver realizzato un articolato sistema di raccolta di scommesse su eventi sportivi gestito tramite gruppi WhatsApp. Un sistema alternativo a quello autorizzato tramite cui gli scommettitori potevano giocare maturando un debito pari alla somma scommessa e in alcuni casi la perdita era così consistente da non poter essere restituita. Sono scattate anche perquisizioni a carico di tre agenzie di Genova ritenute coinvolte nella raccolta abusiva di scommesse. Il pubblico ministero aveva contestato ad alcuni degli indagati anche il metodo mafioso e l'estorsione entrambe non ravvisate dal GIP. Un incendio è divampato nella notte in una cantina di un'abitazione a Ognio di Neironi in Val Fontana Buona. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova con il supporto di un autobotte della sede centrale. La fase più complicata è stata raggiungere la zona interessata dalle fiamme a causa della strada d'accesso che era molto stretta. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme facendo sì che non si propagasse l'abitazione e che la bombola di GPL coinvolta nell'incendio non esplodesse. La cantina però è andata completamente distrutta, lo vedete anche in parte dalle immagini. Fortunatamente non ci sono stati feriti sul posto anche i carabinieri di Torriglia. E rimaniamo in tema perché un'auto ha preso fuoco questa mattina in centro a Santo Stefano d'Aveto nella strada che scende dal castello. Non ci sono stati feriti, un adulto e due minorenni che erano a bordo sono scesi in tempo. La vettura è bruciata invece completamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri. Non è stato possibile definire con certezza quali siano state le cause del drogo. Da cinque mesi gli abitanti della Valdivara devono fare i conti con i disagi causati dalla chiusura della Galleria Madonna della Guardia, che comporta tempi più lunghi per raggiungere le località costiere del Tiguglio. Spostamenti spesso necessari per lavoro, scuola o servizi che nell'entroterra non ci sono. Ieri hanno lanciato una petizione online sul tema. Sentiamo. Chiedono di essere più informati sulle variazioni nel programma dei lavori, sui motivi per cui sono necessarie e soprattutto che queste scadenze siano poi rispettate. Un gruppo di persone che vive e lavora in Valdivara ha lanciato una petizione online per dare più visibilità ai disagi che vivono quotidianamente da diversi mesi a causa della chiusura della Galleria Madonna della Guardia. La strada alternativa, quella che passa per il santuario di Velva, può comportare anche fino a mezz'ora in più di viaggio e per chi sta in valle spostarsi verso la costa è spesso una necessità quotidiana, o per motivi di lavoro o per servizi che non ci sono nel posto in cui vivono. Anche perché tutta quella zona lì dell'Alta Valdivare, come il di Maissana, Carro, Varese e Ligure principalmente, dipendono dal distretto 15 e 16, dall'AS4 e anche da tutte le attività della zona che vanno da Genova, quindi a tutto il Tiguglio. A ottobre 2023 sono iniziati i lavori di manutenzione al tunnel, interventi necessari e lunghi che sta portando avanti ANAS, ma che dureranno più di quanto previsti inizialmente perché le condizioni della galleria sono peggiori rispetto a quanto preventivato. L'apertura di urna è stata rimandata dal 10 febbraio al 24 aprile, la fine vera e propria dei lavori a gennaio 2025. Dal 25 aprile fino al 1 di maggio la circolazione sarà ripristinata per l'intero arco delle 24 ore. Dopodiché, durante il periodo compreso dal 2 maggio al 15 gennaio 2025, la galleria di Velva resterà aperta durante il giorno fino alle 22, per chiudere poi da quell'ora fino alle 6 del giorno successivo. Lucia Marelli, che ha da 30 anni un'azienda agricola e vive a Maissana, oltre ad essere sposata con i riogiani che ha materialmente lanciato la petizione, spiega anche che non si cerca uno scontro con le istituzioni, ma la richiesta è di avere chiarezza e che i tempi siano rispettati. Opinioni condivise, anche con altre sfumature, da altre persone che hanno commentato la petizione. Chi ci abita, chi ci lavora, chi deve fare la sponda avanti e indietro non venga dimenticato, non venga messo in secondo piano, come spesso succede per molte zone delle aree interne, che spesso sono sempre rinomate, messe in bocca a tutti, però poi alla fine chi ci vive note disagi. Parliamo di tanti disagi dalla fibra, da un sacco di problematiche e in più se c'è anche il problema stradale. Rimaniamo in tema viabilità. Città metropolitana di Genova ha annunciato l'avvio di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del territorio, finanziati con oltre 3 milioni di euro. I lavori riguardano tratti saltuari del manto stradale per le strade provinciali. Tra queste ci sono la SP24 di Lorsica, SP25 di Orero e SP85 di Verzi per 420 mila euro, la SP19 di Lomarzo e SP22 di Trevogna per 280 mila euro, la SP33 di San Salvatore, SP32 del Bocco di Levi e SP34 di Cogorno, SP26 di Valgraveglia per 250 mila euro, la SP42 di Romaggi per 142 mila euro, la SP32 del Bocco di Levi e SP58 della Crocetta per 95 mila euro. Questi sono appunto alcuni dei lotti di questi interventi. Preparano azioni legali e invocano ulteriori modifiche al progetto i comitati contrari alla realizzazione del tunnel fra Rapallo e la Val Fontana Buona. Il comitato no tunnel presenterà ricorso per bloccare il cantiere quando avrà esaminato la valutazione di impatto ambientale nazionale. Sentiamo. La politica locale tace ma i comitati no e sull'imminente avvio dei lavori per costruire il tunnel che collegherà in galleria la Val Fontana Buona e la 12 nei pressi del casello di Rapallo prospettano due ipotesi parallele. Da un lato un ricorso che blocchi i cantieri, dall'altro un tavolo di dialogo e confronto per modificare in particolare la parte del progetto che porterebbe conseguenze per la zona collinare di Arbocco. A fronte delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi che a Genova ha annunciato per giugno l'avvio dei lavori per la costruzione del tunnel, le associazioni ambientaliste e il comitato no tunnel preparano un ricorso al Tari potizzando violazioni di natura procedurale. Aspettano la pubblicazione della valutazione di impatto ambientale nazionale attesa entro la fine di marzo e molto probabilmente in arrivo già la prossima settimana e preparano un'azione legale che blocchi l'inizio dei lavori. Intanto presenteranno una interrogazione in sede europea perché venga valutata la legittimità del provvedimento regionale che riclassificando le zone a rischio frana ha di fatto accelerato le autorizzazioni necessarie alla prosecuzione dell'iter burocratico. Parallelamente il circolo della pulce ribadisce una posizione dialogante sì al tunnel ma non alle condizioni ventilate fino ad oggi perché le modifiche si possono fare se c'è la volontà spiega la presidente Nadia Molinaris che valuta positivamente i cambiamenti che la stessa Autostrade per l'Italia ha portato al progetto nella sua ultima formulazione. E allora sediamoci intorno a un tavolo suggerisce oggi e troviamo insieme soluzioni progettuali che impattino meno sulle frazioni di Rapallo ma garantiscano alla Val Fontanabuona quello sbocco in autostrada di cui ha bisogno perché se la valle è atteso fino ad oggi forse può attendere ancora qualche mese è l'idea di fondo. Rapallo sta per affrontare una campagna elettorale che allo stato attuale si annuncia più incerta nelle sue dinamiche rispetto a quelle della storia recente e questo è il sentimento comune potrebbe creare un vuoto istituzionale favorevole alla prosecuzione dell'iter propedeutico all'avvio dei lavori. Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha annunciato la revoca degli incarichi agli assessori Maria Caterina Peragallo, Francesca Aprile ed Enrico Zanini. Gandolfo dice che c'è una volontà di rottura ufficializzata attraverso la costituzione di un gruppo consigliare autonomo e Peragallo aveva le deleghe a lavori pubblici, demanio marittimo, manutenzione e frazioni, Aprile ha servizi sociali, tradizioni locali e gemellaggi, Zanini ha urbanistica, edilizia privata, attività produttive e cultura. Tutti e tre gli assessori erano stati candidati con la lista per Recco Gandolfo sindaco e ricordiamo che Recco è uno dei comuni in cui questa primavera si andrà al voto per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco. Oggi è iniziato un nuovo cantiere per consolidare la strada in via Permagena-Chiavari, si trova all'altezza del Civico 11 e l'intervento è diviso in due step. Nella prima fase saranno installati micropali verticali e il traffico sarà regolato da un impianto semaforico, mentre nella seconda sarà creata una palificata inclinata e sarà necessario chiudere al traffico la strada per circa tre o quattro giorni. Sarà consentito il passaggio ai residenti in tre fasce giornaliere. Infine sarà costruito un nuovo cordolo e posizionato un guardrail. Voltiamo pagina, nell'udienza generale del mercoledì il Papa ha parlato della superbia nell'ultima catechesi del ciclo sui vizi e le virtù. Francesco scrive che si tratta di uno dei vizi più pericolosi perché avvelena il sentimento di fraternità. Sentiamo. Autoesaltazione, presunzione e vanità sono alcune delle caratteristiche da superbia, il tema al centro della catechesi dell'udienza generale del mercoledì, l'ultima del ciclo sui vizi e le virtù iniziato il 27 dicembre scorso. Il Papa spiega che si manifesta nel sentirsi superiori agli altri e nel voler essere riconosciuti per questo. Un vizio molto pericoloso rovina i rapporti tra le persone e avvelena quel sentimento di fraternità che dovrebbe accomunare tutti. Anche questo mercoledì la lettura è stata affidata ad un suo collaboratore, in questo caso Monsignor Pierluigi Giroli, padre rosminiano della segreteria di Stato, perché il pontefice è ancora molto raffreddato. Chi accorge di avere a che fare con un orgoglioso quando muovendo a lui una piccola critica costruttiva o un'osservazione del tutto innocua, egli reagisce in maniera esagerata, come se qualcuno avesse leso la sua maestà. Il rimedio più efficace ad ogni atto di superbia è quello di essere umili. Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Dunque, cari fratelli e sorelle, approfittiamo di questa quaresima per lottare contro la nostra superbia. Al termine dell'udienza in piazza San Pietro il Papa ha rivolto un nuovo appello per la pace, facendo in particolare riferimento alla Terra Santa e all'Ucraina. Ancora una volta, fratelli e sorelle, rinnovo il mio invito a pregare per le popolazioni che soffrono l'orrore della guerra in Ucraina e in Terra Santa, come pure in altre parti del mondo. Nella puntata di Missione Mondo, in onda questa sera su Telepace al Canale 12, proporremo una testimonianza dalla Terra Santa. Don Maurizio Prandi intervista Suor Rosa De Toro, Suora Giannellina Aortas, nella piccola comunità cristiana a Betlemme. Le suore seguono da vicino le vicende legate alla guerra nella striscia di Gaza, contribuendo a donare un segno di speranza per la popolazione locale. Ne sentiamo un'anticipazione. C'è un germoglio di speranza che continua a portare frutti anche in una terra che non conosce pace e quello alimentato dalle sue regionelline di Aortas a Betlemme, che seguono da vicino le vicende del conflitto israelo-palestinese. Cerchiamo di essere sempre un segno di speranza, di ricordare alle persone che abbiamo accanto che il Signore non ci abbandona, che dobbiamo offrire tutto e dobbiamo costruire la pace nel quotidiano. Nel corso degli anni la missione delle Giannelline si è adeguata all'evoluzione dei tempi, mantenendo immutata la vocazione e il carisma impresso dal fondatore. Farci risposta ai bisogni che possono emergere nel tempo, nella storia. Così siamo state fondate a Chiavari nel 1829 da Sant'Antonio Maria Gianelli. Nel 2005, quando Sor Rose è giunta ad Aortas, poco dopo la seconda intifada, era in curativa una casa che accoglieva le ragazze orfane, chiusa nel 2007. Le suore insegnavano nella scuola materna cattolica, accogliendo circa 100 bambini e si adoperavano nella cura degli ammalati nell'ambulatorio presente all'interno del santuario. Oggi la casa è diventata un luogo di accoglienza per gli esercizi spirituali di laici e consacrati. La scuola è affidata a maestre cristiane, l'ambulatorio continua la sua funzione all'esterno del santuario. La guerra a Gaza non riguarda direttamente la zona dove si trovano le suore, ma ha ripercussioni anche lì. La guerra a Gaza sta un po' lontana di qui della nostra realtà, sebbene sentiamo quotidianamente tutte le notizie a viva voce anche da parte della gente e sentiamo gli aerei che passano sopra il santuario. Abbiamo sempre una visione di fede e cerchiamo di fare presente al Signore tra i fratelli e tra le persone che ci sono affidati. In questi giorni 25 giornalisti liquidi sono a Malaga per 12 giorni di formazione sull'intelligenza artificiale applicata al settore dell'informazione. Presenti anche due giornalisti di Telepace, il nostro direttore Don Fausto Brioni e il nostro collega Andrea Capitani. Un'occasione di aggiornamento professionale e condivisione tra colleghi. Vediamo. Che cosa sta facendo il gruppo dei giornalisti Liguri arrivato per l'Erasmus? Stiamo facendo una formazione sull'intelligenza artificiale che è un tema cruciale per l'aggiornamento continuo dei giornalisti. Noi in particolare ci occupiamo dell'aggiornamento dei giornalisti Liguri. Siamo qui con un gruppo di 25 colleghi di tutta l'età, di tutta la Liguria e che lavorano in diversi settori, in diversi media. Siamo qui per un aggiornamento appunto continuo, formazione continua che è uno strumento fondamentale per i giornalisti per rimanere aggiornati in un mondo del lavoro che cambia continuamente. È l'Università di Malaga specializzata nella intelligenza artificiale legata al mondo del giornalismo. Ieri abbiamo avuto la prima sessione di studi, puoi dirci già qualcosa di sintesi? Sì, abbiamo fatto l'introduzione teorica. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Perché tutti ne parlano e pochi ne sanno. E in particolare l'intelligenza artificiale applicata al giornalismo, le minacce, perché minacciano la correttezza dell'informazione, le fonti possono essere manipolate con l'intelligenza artificiale generativa e poi invece gli strumenti per rendere più semplice il nostro lavoro di verifica e che a volte porta via tanto tempo. Il tempo è una cosa di cui non abbiamo spesso, diciamo, molta disposizione. Vivere insieme con tutti questi colleghi, insieme per dieci giorni, cosa vuol dire? Far andare d'accordo tanti adulti che non si conoscono e che non sono più abituati a vivere in gruppo non è semplice. Però nessuno si iscrive a queste formazioni per conoscere gli altri colleghi e per il gruppo, ma poi il valore del gruppo è quello che ci si porta a casa come uno dei valori principali di queste formazioni, perché in questi 12 giorni che passeremo insieme ci conosceremo e allacceremo dei rapporti personali, ma anche lavorativi, che nei gruppi passati hanno dato poi origine anche a delle occasioni di lavoro e questo è un valore aggiunto molto importante anche per l'ordine. Ed è formativo per un lavoro sempre più collegato in rete? Sì, si impara a lavorare in gruppo, faremo poi dei lavori di gruppo, cosa a cui non siamo più abituati, mai abituati in realtà, perché il nostro è un lavoro individuale, anche se uno lavora in redazione, poi difficilmente lavora davvero con qualche altra persona per produrre pezzi giornalistici. Due incontri a Sesti Levanti con Rosalia Costa in occasione della giornata internazionale della donna, è un'iniziativa dell'ufficio scuola della diocesi di Chiavari in collaborazione con Libera, presidio Nicolás Green, l'istituto scolastico Natta di Ambrosis e le parrocchie di San Bartolomeo della Ginestra, Riva e Trigoso. Il primo appuntamento è giovedì 7 marzo alle ore 21 nell'oratorio di San Bartolomeo, un'occasione di ascolto e dialogo aperto a tutti a partire dal libro La mafia non deve fermarvi, scritto di recente da Rosalia Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone che è stato ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Il giorno successivo Rosalia Costa incontrerà studentesse e studenti all'istituto Natta nell'ambito del progetto di educazione civica. Vediamo. Io, Rosalia Costa, vedova della gente Vito Schifani mio, battezzata nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso rivolgendomi agli uomini della mafia perché ci sono qua dentro e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Le sue parole, il suo pianto, il coraggio di prendere la parola di fronte alla bara del marito Vito Schifani. Ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio del 1991 con il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli altri agenti della scorta, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Rosaria Costa aveva 22 anni e un figlio di 4 mesi quando pronunciò quelle parole nella chiesa a Stracolma. Il suo volto è diventato il volto del dolore di una città, Palermo. Fra il 1992 e il 1993 la mafia palermitana fece 117 vittime. Da quel giorno Rosaria Costa ha vissuto testimoniando che la giustizia e la legalità sono un bene, che esiste la possibilità di restare e lei lo ha fatto per un periodo per poi andarsene e per poi tornare ancora nella sua Sicilia. Rosaria Costa sarà in diocesi giovedì 7 marzo quando incontrerà tutte e tutti nell'oratorio della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra alle 21. Il giorno successivo sarà all'istituto nata di Sestri Levante per incontrare studentesse e studenti. Racconterà la sua storia, quella dei legami familiari che l'hanno fatta crescere e l'hanno sostenuta. Accanto a lei oggi c'è quel figlio nato pochi mesi prima della morte del padre che si chiama Emanuele e oggi è ufficiale della Guardia di Finanza. Racconterà della fede che ha conosciuto da bambina, del suo essere donna ieri e oggi, testimone impegnata piena di speranza, fedele ad una consegna, far brillare davanti ai giovani soprattutto la luce di un valore coriaceo che si incarna in giustizia, legalità, verità e testimonianza per ripetere anche a loro che la mafia non deve vincere mai. Tornate ad essere cristiani, per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce Padre perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Vediamo adesso gli appuntamenti in programma per giovedì 7 marzo. Appuntamenti in agenda per giovedì 7 marzo. Torna il bello delle donne Liguri a Santa Margherita Ligure a Villa Durazze e Villa San Giacomo dalle 10 alle 18 esposizione di oggetti di artigianato frutto della creatività femminile e pizzi di tombolo, ingresso al libro fino ad esaurimento posti. Alle 14.30 a Palazzo Ducale di Genova si terrà un incontro per discutere sulla parità di genere. Interverranno esponenti delle istituzioni e professori dell'Università di Genova per dare un contributo sulla presenza e il ruolo delle donne nella pubblica amministrazione di oggi e domani. Nella parrocchia di San Giuseppe dei Pieni di Ria Chiavadi si terrà l'incontro Vi ho chiamato amici, rivolto a tutte le persone che vogliono passare un pomeriggio in compagnia con attività e giochi. Inizia alle 15 e durerà fino alle 17.00. Terzo appuntamento del ciclo di incontri Cultura al Golf. Alle ore 18 al Circolo Golf e Tennis di Rapallo l'astrofisica e giornalista scientifica Gabriella Bernardi presenta la conferenza Dono e Scienziato, illustrazione del mondo del lavoro femminile in ambito scientifico. Continua il ciclo di incontri verso il tempo delle donne. Alle 18.30 al Teatro della Juventù di Genova il giornalista Andrea Laffranchi incontra Jack Savoretti e intervista Noemi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il TICU, Teatro Internazionale di Quartiere, a Genova ospiterà la prima edizione della Champions League del Tornio di Cirulla. I campioni del Sestriere del Molo sfidano i campioni del Sestriere di Pre nel Sestriere della Maddalena. Appuntamento alle 19.30. Nell'auditorium di Palazzo Rosso a Genova alle 20.30 va in scena lo spettacolo teatrale 8 donne, curato da Roberto Viotti e Daniela Nugnes. L'evento, nato per celebrare le donne e il loro ruolo nella società, è a ingresso libero. Incontro di riflessione storica guidato da Don Claudio Doglio dal titolo Terra Santa, ragioni del conflitto e preghiera per la pace, in cui si tratterà il tema della guerra in Medio Oriente. Appuntamento alle ore 21 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Zoagli. Il calcio adesso, in Serie C, la Virtus Entella è tornata alla vittoria. Al comunale di Chiavari, i Bianco Celesti hanno vinto per 5-0 con il Perugia, grazie alla tripletta di Corbari e i gol di Peterman e Montevrago. A fine gara la soddisfazione della squadra per aver ritrovato il giusto spirito per affrontare la parte restante del campionato. Sentiamo. L'orgoglio e la voglia di rivalsa dei ragazzi sicuramente è stata una leva straordinaria per fare una prestazione di questo tipo, dove dall'inizio alla fine la squadra è stata arrembante, è stata vogliosa di portare a casa il risultato pieno. Questo dimostra che spesso abbiamo peccato e i ragazzi ne devono essere consapevoli della forza che possono avere. Voglia di rivalsa, avevamo dentro tanta rabbia, tanta delusione e siamo stati bravi a incanalarla nel giusto modo. Siamo riusciti ad essere aggressivi, a non subire la partita e quindi è stato un bel segnale che ci siamo andati principalmente a noi stessi e poi anche allo staff, alla società, ai tifosi stessi e quindi da questo dobbiamo solo ripartire con tante certezze e pochi dubbi di quello che possiamo fare e di quello che possiamo che siamo. Si torna subito in campo tra pochi giorni, ma quanto vi può dare da un punto di vista morale questa vittoria e anche che consapevolezza vi può dare il fatto di aver trovato così tanti gol contro la squadra che in questo momento è quarta in classifica? Sicuramente a livello di morale ci può dar tanto, dobbiamo essere bravi noi a non farla diventare una goccia nel deserto, dobbiamo essere bravi a smaltirla alla svelta perché ci aspetta comunque domenica una partita molto importante in cui dovremo entrare in campo con questo atteggiamento. L'assurdità è che nella mia carriera d'allenatore non avevo mai perso 4-0, non avevo mai vinto 5-0, in tre giorni è successo di tutto, quindi è dimostrazione che nel calcio può succedere di tutto e non bisogna mai dare per scontato niente, io ragazzi ho detto che non è importante il nome dell'avversario ma noi dovevamo fare i punti. È tutto, grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. L'appuntamento con l'informazione in diretta torna domani alle 7.30 con il Tg Rassegna Stampa, buon proseguimento di serata.